La cultura non si ferma di fronte al virus. Non si fermano neppure gli associati del centro studi e ricerche Vittorio Monaco, unitamente al presidente Bruno Di Bartolo, che hanno ripreso le attività in una modalità diversa dal solito che appunto la pandemia oggi impone, e cioè la diretta streaming. La situazione attuale suggerisce di evitare quanto più possibile i contatti fra le persone, in particolare gli assembramenti. La via telematica, pertanto, oggi appare la strada giusta. La diretta streaming nella pagina Facebook del centro studi è apparsa la soluzione più adeguata. Si è iniziato lo scorso 8 marzo con il rating di poesie Voci Femminili. Si è continuato mercoledì scorso con un incontro nel corso del quale si è discusso di montagna, aree interne, transizione ecologica nel nostro paese dell'Atlante e dell'Appennino, curato dalla Fondazione Simbola. Appassionati e soci del centro hanno potuto seguire in diretta streaming l'incontro sulle pagine Facebook di Simbola e del Centro Studi e Ricerche Vittorio Monaco. Ha coordinato l'incontro Antonio Carrara del Centro Studi. Argomento importante ci è apparso subito la presentazione dell'Atlante e dell'Appennino, a cui Domenico Storabotti, direttore della Fondazione Simbola. Di questa dorsale del nostro paese in verità ci è detto molto, ma non esisteva un vero Atlante complessivo che potesse presentare questa catena montuosa che attraverso l'intero nostro paese, in tutte le sue spaccettature ed anche sotto gli aspetti economici che esso rappresenta e composta, come appunto ha riferito Domenico Storabotti. E' emersa dunque l'importanza, la rilevanza, la centralità nelle geografie fisiche, storiche, economiche e culturali del paese. E' stata evidenziata la fragilità ma anche la straordinaria potenzialità del più importante sistema montuoso mediterraneo, vero paninsesto di tutte le fasi della civilizzazione occidentale. Questa visione dell'Appennino italiano e più in generale delle aree interne del nostro paese sono ancora oggi di grande attualità, in particolare per le aree interne del nostro paese. Non a caso perciò è apparsa di straordinaria importanza la presentazione dello studio dell'Appennino, le montagne del Mediterraneo al tempo della transizione ecologica. L'Atlante dell'Appennino è uno studio curato dalla stessa fondazione e pubblicato nel 2018. Il volume propone una lettura unitaria e complessiva dell'Appennino. Hanno partecipato all'incontro Giovanni Cannata, presidente del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio Molise, Tommaso Namarra, presidente del Parco Nazionale Gran Sasso, Monti della Laga, Lucio Dazzaro, presidente del Parco Nazionale della Maiella, ha concluso Fabio Renzi, segretario generale della Fondazione Simbola.